Una settimana di lavoro tra lezioni pratiche e riprese è in piena fase di montaggio il cortometraggio realizzato nell'ambito dello stage organizzato da Lucca Effetto Cinema e Fondazione Banca del Monte. Il corso di formazione era legato alla produzione di un vero e proprio prodotto cinematografico, un cortometraggio appunto dal titolo provvisorio Far East completamente girato a Lucca. La sceneggiatura di Antonio Ruscigno è infatti stato il miglior lavoro prodotto all'interno del corso di sceneggiatura dello scorso anno. La storia indaga la solitudine e il bisogno di essere accuditi raccontando la vita di un simpatico vecchietto alle prese con la sua badante straniera. L'obiettivo è stato quello di creare un prodotto in grado di mostrare le potenzialità creative e produttive del territorio lucchese in contesti di festival e rassegne nazionali ed estere. È un piacere continuare a promuovere l'arte del cinema in tutte le sue forme, dalla formazione alla produzione. In questo caso, oltre alla produzione, l'importanza è stata data alla formazione perché questi giovani ragazzi hanno avuto la possibilità di formarsi con dei personaggi importanti e professionali del mondo del cinema. E questa penso sia un'opportunità, un'occasione unica. Auguriamo un in bocca al lupo ai ragazzi che si sono formati, ai professionisti che devono continuare il loro lavoro. Siamo curiosi di vedere il cortometraggio che aspichiamo faccia il giro di vari festival e possa portare il nome della fondazione e la città di Lucca in giro un po' per il mondo. Diretto da Cristina Puccinelli, il cortometraggio è prodotto dall'Associazione Effetto Cinema e Odd Movies, con post-produzione a cura di Radical Plans. Grazie a tutti.